Quindi partiamo con il giusto entusiasmo, un po' troppo accaldati, ma insomma quello sono un po' tutti, quindi mal comune. Sì, sì, anche perché la tendenza è quella di restringere il periodo di precampionato un po' chiaro, visto che l'Eurolega per esempio già mette delle regole molto tassative in questo senso, perché per i giocatori le stagioni sono molto lunghe, insomma perché i precampionati di una volta non si fanno più, insomma e quindi poi gli allenatori vorrebbero avere dal giorno, non uno, dal giorno meno due tutti qua, però insomma va bene così, siamo nei ritmi normali al momento e quindi... Sì, è una buona base, per me è un motivo sicuramente un po' di orgoglio e un po' di responsabilità, avere dei ragazzi che hanno piacere di seguirmi e di venire, insomma, cambiando posto in un'altra situazione a giocare con me, perché chiaramente per me certe cose saranno più semplici, la comunicazione sarà molto più semplice tra me e loro e mi serviranno tra loro e gli altri nuovi, chiaramente, e c'è anche un senso di responsabilità, perché sia nei confronti di questi ragazzi che insomma mi seguono in un posto completamente nuovo e importante come questo, e sia anche nei confronti del club, dei tifosi, di tutti quanti, perché chiaramente insomma ci si aspetta, come dire, qualche cosa di consistente, quindi visto che questo campionato secondo me ha alzato ancora un pochino il livello, soprattutto nella fascia di squadre medio-medio alta e quindi sarà un altro campionato terribile, tra virgolette, dobbiamo farci trovare pronti e speriamo che questo per noi sia un punto, non dico di vantaggio, ma insomma un punto dal quale partire con una certa consistenza.